Si è parlato tanto dell'eredità di Silvio Berlusconi, da quando l'ex presidente del Consiglio è morto lo scorso 12 giugno. Si è vociferato anche di problemi interni alla famiglia, con i figli del Cavaliere che avrebbero avuto insofferenze nei confronti della compagna Marta Fascina. Brutte voci erano uscite fuori quando era stata ufficializzata la somma di 100 milioni di euro da destinare a Marta. Ma ora si è scoperto finalmente qual è il rapporto tra lei e soprattutto Marina Berlusconi. Solamente pochi giorni fa, i figli di Silvio hanno rivelato di non aver sollevato dubbi sul testamento del padre e di aver quindi accettato le sue decisioni. E non solo. Dagospia ha svelato in anteprima che i rapporti soprattutto tra le due donne sono buoni ed ha aggiunto. Tutto è filato liscio, grazie anche a un'amabile vacanza di quattro giorni sulle Alpi Svizzere di Marina Berlusconi con Marta Fascina. Hanno condiviso un'esperienza importante con questa vacanza estiva che avrebbe quindi eliminato ogni perplessità sul legame.